È di oltre 84.000 euro il plafond ottenuto dalla tassa di soggiorno che la Romagna faentina mette in campo per promuovere e cofinanziare iniziative a scopo turistico e culturale. Anche Faenza come tante altre città italiane dal 2018 riuscirà a cofinanziare tanti eventi che si svilupperanno nel nostro centro storico, nello spazio urbano più generale attraverso la tassa di soggiorno. Una parte della tassa di soggiorno del 2018 infatti sarà utilizzata per cofinanziare progetti di natura culturale, turistica, anche le volte sportiva, purché la ricaduta sia proprio in termini di accrescere la vitalità, la vivacità, la credibilità in termini proprio turistici di Faenza. Crediamo sia giusto con l'ingresso dell'introduzione della tassa di soggiorno aiutare questo sviluppo, renderlo sempre più strutturale, per cui una parte di queste risorse servirà per un bando nel quale cercheremo un partner per la promo commercializzazione e la gestione degli IAT della nostra città. Dall'altro una parte di finanziamenti, che sono quelli che riguardano il bando che abbiamo presentato oggi, serviranno per aiutare progetti che durante tutto l'anno ci permettono di avere una città viva.